Non esistono più confini nel mondo della ristorazione. Goff e ciurro sono entrati prepontentemente nell'abitudine alimentare degli italiani. Grazie alla tecnologia Techfood, abbinata ai nostri mix, sono ideali per essere serviti come snack pomeridiano o dessert a fine pasto. Possono essere serviti in abbinamento a cioccolata calda, frutta fresca di stagione o topping alle creme. L'unico limite, la fantasia dell'esercente. Grazie a tutti.